Perché l'ha fatto? Innanzitutto va ricordato quel che è l'obiettivo della BCE, cioè garantire la stabilità dei prezzi. Ciò si traduce in un target di inflazione del 2% circa, un livello che però l'Eurotower manca ormai da tempo. A febbraio quella della zona euro è tornata addirittura in negativo. All'apparenza prezzi più bassi possono sembrare una buona cosa, ma a livello di sistema non lo sono, perché possono generare una dinamica, la deflazione, in cui tutti i consumatori rimandano sistematicamente gli acquisti. A quel punto il calo dei prezzi diventa endemico, le aziende guadagnano meno, tagliano costi, investimenti e posti di lavoro, la crescita rallenta, le persone guadagnano meno, spendono meno e così via. La soluzione allora è quella di spingere famiglie e imprese a spendere. Sono le banche il vero perno della manovra e tutte le misure della BCE non hanno altro fine se non quello di liberare o fornire risorse finanziarie perché gli istituti di credito eroghino prestiti all'economia reale.